Ciao a tutti i nini, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua su un video che voi direte Madonna mia se sei un'ipocrita, no In realtà volevo parlare, volevo fare una partita a questo gioco che tutti conoscete che è Clash Royale E voi direte ma tu avevi detto non lo portavi più, no Io avevo detto che lo avrei riportato nel caso che il gioco mi avresse ripreso un po' ok Siccome devo ancora capire se in realtà hanno fatto delle cose buone o cattive nel gioco Ma adesso arriviamo al punto, perché sono rientrato l'altro giorno ero lì in fiera a Lucca E vi avverto, ci sarà una parte parlata prima, quindi se volete guardare il gameplay O meglio quel che si potrà chiamare gameplay visto che caricherò qualunque cosa accada Andate avanti nel video, altrimenti ascoltate anche il mio discorso, è comunque un discorso intelligente In pratica che succede? In pratica ero in fiera a Lucca e tutti i bambini facevano aprire i loro baule Vole leggendari, mai visti, un baule strano con un numero sopra Insomma dei baule non avevo mai visto, ho trovato un sacco di carte, tra cui due leggendari tra l'altro Cioè ho trovato più leggendari sui baule coperto a Lucca dell'altra gente che sul mio account Che ricordiamoci ho una leggendaria nonostante io abbia casciato Ho scoperto che tante lamentele che volgevo io alla Supercell indirettamente Ma anche tanta utenza sono state diciamo aggiustate Vabbè, delle carte parliamone, che voi adesso direte Eh cazzo mettere una carta a settimana con c'è l'aggiornamento Sì, però prima ne mettevano 4 insieme, adesso ne mettono 4 in un mese Più o meno, per capire l'esempio Quindi, insomma, non è che cambia qualcosa in realtà Però hanno messo delle offerte che permettono agli utenti di avere carte anche a basse prezzi con delle offerte Ad esempio, io per avere una leggendaria ho casciato quasi 100€ Prima di trovare una prima leggendaria Adesso ogni tanto appare un baule con 5 arti e una leggendaria Questo mi è stato detto, quindi questo io vi riporto Una cosa che non l'ho ben capito è i tornei Peraltro, come vediamo, qui c'è un evento Che a breve partirà Che è una specie di draft degli altri giochi Dove per esempio tu giochi carte che non hai Tu giochi con dei mazzi Che vengono creati con tutte le carte del gioco Come nei draft degli altri giochi di carte E però le regole sono da torneo Secondo me dovrebbero mettere le regole da torneo anche nelle partite normali E il gioco sarebbe già decente Ma ancora non ci arrivano Quindi, tra il fatto che adesso è più diciamo Abbordabile dall'utenza Con il fatto che adesso ci sono Un bel po' di carte Perché ora, vabbè, non ce ne sono miliardi Però ce ne sono un po' Di conseguenza, secondo me, il gioco è diventato un po' più vario Anche se in realtà non ho visto come sempre E non avevo dubbi Che siccome ci sono delle carte con dei kit sbagliati E i kit sbagliati cosa sono? In pratica, ad esempio, il kit del log rider È che lui salta le cose E attacca solamente le strutture Facendo anche un botto di danno Questo vuol dire che per nelfare log rider Devi mettere delle limitazioni a livello di Di come è fatto Ad esempio, o gli riduci tantissimo il danno Ma drasticamente Oppure gli levi il fattore che salta al fiume Oppure gli levi il fattore che corre veloce Oppure lo fai andare veramente lento Che è la stessa cosa, tra l'altro Nel senso, se una cosa è un'abilità forte di suo Se tu continui a levargli quel pochino di danno ogni patch Rimane comunque forte Infatti ho guardato sui siti Sui siti E tutti i mazzi O meglio, quasi tutti Sono sempre gli stessi Nelle arene alte Ma siccome io guardo i siti e non i mazzi Andiamo a vedere realmente Anche se questi qui Non sono attendibili Vediamo se non sono fatti V royale Arena leggendaria C'è sempre il solito Valkyria Moschettiere Zap Hog rider Gelo Principessa So cambiare due carte Ci sono sempre questi mazzi Ci sono ancora Gli rivediamo anche qui Ma almeno Sono meno frequenti E vedo un po' più di varietà Nelle carte Ok? Io in conseguenza voglio provare a giocarci Però bisogna anche del vostro aiuto Perché oltre a questo video Che io ho fatto per dire un po' La mia su questo gioco Mi serve anche il vostro aiuto Per spiegare magari Cos'è che è cambiato Cos'è che potrei usare Che carte sono forti In Arena 7 Questa comunque è la mia collezione Non è mai cambiata ragazzi Io ho queste carte qua Quindi se volete darmi una mano E riguardatevele la prima E ditemi cos'è che devo mettere Nei mazzi Dei mazzi forti Veramente forti E spiegatemi Cos'è che hanno fatto dei tornei Cioè merita fare il torneo Da 100 gemme Ogni quanto esce L'offerta buona Che peraltro appunto Mettendola 500 gemme Permette sia a chi cascia Di avere con 5 euro Una leggendaria Più altre cose Da quello che ho capito Ma 500 gemme Paradossalmente Sono fattibili Anche per chi gioca Tanto e basta Non so se ce la fai In una settimana Ma in un po' di settimana Dovrebbe farcela A farmare 500 gemme O almeno credo Quindi è più abbordabile Come gioco In generale In generale In generale Un'ultima riflessione Poi passare al gameplay E ho visto una moda adesso Che io non metterò in atto Perché è una cosa Mi dà proprio fastidio E vi ripeto Che sarebbero views facili Sarebbe un contenuto Facile da creare Sarebbe un contenuto Facile da portarvi E sarebbe un modo Per fare views Di conseguenza soldi Facilissime Ora ho visto Che c'è la moda Di tutti i canali Di Clash Royale Che loro devono Loro spacchettano 4 leggendarie Con un baule magico Un baule leggendario Tu guardi E tu dici Cazzo Questo mago Come ha fatto Un milione di visual Vai a vedere E apre Il suo monobolo Leggendario E quello c'è Dove trova Una leggendaria E poi apre 26 bauli Di 26 account Che sono Dei fan Degli amici Della bambina Del Gesù Addirittura Vedevo video registrati Col cellulare Con le bande laterali Quindi manco Manco la decenza Di dire Registro col telefono Pro orizzontale Ma lo registro Il telefono in verticale Registrata magari fuori Mentre anche gli amici Perché altri amici Stavano spacchettando Il baule Io Io Ora vi dirò Vi dirò Perché io disapprovo Perché magari Non si capisce Possono piacervi I chest opening Ma se io guardo Ad esempio Ad esempio E apprezzo A questo punto Un ciccio gamer Che butta Butta Per modo di dire Mette nel gioco Dei soldi E trova delle carte Però con quelle carte Che trova lui Con il suo account E i suoi soldi Con quelle carte lì Andrà poi a giocare Negli altri video Del canale Ok Mentre ci sono canali Che sono basati Solamente su questi Chest opening Dove nemmeno giocano E nemmeno sono loro Le chest che aprono Di conseguenza Quel video Non è a sé stante Per il canale Non è a sé stante Per l'account Di quella persona Non è a sé stante Per un cazzo È a sé stante Solamente per il portafoglio E con questo vi dico Fanno bene però Perché voi li guardate E non è colpa nemmeno vostra Perché se voi li guardate Vi piacciono Ma io chiedo a voi Perché voi li guardate Ripeto Se io su FIFA Guardo un pack opening È perché io spero Che per esempio Un joker Mi trovi un Messi Blu E la partita dopo Lui giochi con Messi Blu O con un totale Di giocatori Che va a riparare Alla scena La scena di Messi Blu Ok E la cosa è figa Oltre ad essere Un contenuto Simpatico Perché comunque Trova lui Messi È un contenuto Che aiuta Anche il canale Di altri video E i futuri video Che farà Ma questi no Minchia Ho guardato un paio di video E mi sono cadute le palle E voi direte Mi casca le palle A vedere i tuoi Va bene ho capito Però anche a me Casca le palle A vedere questi video qua Quando poi I canali Si incentrano Solo su quello Va detto anche Effettivamente Che se io vedessi Aprire a uno Otto Leggendari Che poi non sono Nemmeno sue E nel video dopo Di quell'otto Leggendari Non ce n'è mancuna Giocano lo stesso mazzo Un po' mi girerebbe Il cazzo A me guardare Ma adesso Passiamo a giocare Allora Ho visto questi tre mazzi Io prima Su internet Perché non sapevo Dove cercare E adesso Guardiamone un paio Di arena royale Guardiamo in arena 7 Intanto dove sono io Cosa giocano Giocano questa roba qua Poi sto provando Questi mazzi Giusto per il gusto Di provarli Voglio copiare i mazzi Della classifica Di arena 7 Partiamo dal Il meno costoso E arriviamo al più costoso Parliamo di elisir Ovviamente Aspettiamo Perché giustamente Adesso sappiamo Che si deve aspettare Se sbaglio a giocare Ragazzi Ditemelo Ovviamente Non esitate Nel Nel dirmelo Perché giustamente È così che si deve fare Ok Poi ragazzi Ok Ok Siamo partiti tranquilli Molto scialli Abbiamo anche Esatto La zap qua La zap qua La zap qua La zap là Ok Uno è morto E loro però Fanno tanto male D'altro L'ho tolto però 600 Alla torre Quindi siamo già Super contenti Ovviamente c'è la tesla Che ci pare Un po' il boost Del cool E E Quello Ma io ci saremo What the fuck Ok Questo qua Loro qua Ok Shottate queste merda Dovete shottare Ok 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 Shottate Shottate tutto Bravissimi Ok Ho la zap qui pronta La zap su cosa La vogliamo fare Su questa Ok Appena si carica La faccio Ok Ora Un altro colpettino Bravissima Bravissimo Gadder Come vedete Fa un danno Ancora boia Nonostante le varie patch Dove è stato nerfato Perché porco 2 Fa un danno Della madonna Prossimo attacco Indubbiamente La torre ci saluta Ci fa bye bye Con la mano E questa Questa E questa E questa Tu girati Girati su di lui Girati su di lui Forse non era la scelta giusta Fare lui Però dettagli È stato molto divertente Vederlo Morire così Ok Magari la valchiria Se lui non se la caga molto Un po' danna La torre lo fa Andiamo un po' Uno Due Un altro E butta giù La torre Ok Completamente a gratis Noi quindi mettiamo Una tesla qua nel mezzo Che non fa mai male Girati su di loro Girati su di loro Ok per questo Boom Mamma mia Che è top A questo punto Facciamo anche così E se lui per caso Dice Io mo lo voglio contrastare Facciamo anche questi Dagli Guardali il plotone D'esecuzione Guardali Guardali E così È già andata la prima partita Bene Tre corone Mamma mia Sono in arena 7 Sono un nabbo Le carte super livellate Manno poco Poco costosa Meno male Io direi di tirare Il gigante Da una parte Bella giocata Grazie Lo so Lo so Direi questo Punto di tirare Quasi quasi Il draghetto Di qua Ok il draghetto Tirato Direi di tirare A questo punto Le guardi qua Rompiti uno scudo Rompiti uno scudo Uh che top Ok Ho rotto uno scudo Allo schifo qua Bene bene Il gigante Si avvicina L'importante è che Il gigante Si avvicini Ho sbagliato tantissimo Ho sbagliato Però aspetta C'è un datore lì Che mi aiuta Ok mini pecca Devi buttarlo giù però Ok Ho sbagliato tantissimo A livelli Poco altissimi Levissimi E purissimi Quanto danno farà Boom Mamma mia ragazzo Mini pecca è stato il degenero Quanti anni fa la bomba Bella madonna Pingiamo sempre di qua a sinistra Perché adesso Possiamo già buttarla giù Con un missile Più un po' di fortuna Quindi Mo' aspettiamo Lui adesso tirerà il mini pecca Che è quella roba Vabbè Facciamo così Tanto il gigante è abbastanza Se tiriamo questo davanti Tiriamo Ok Bello easy Ci piace così Se adesso vi tira qualcosa Che sciavano Vi ci abbiamo le frecce Lo potrete anche in prediction Ma non c'ho voglia Vabbè Facciamo che tiriamo Ok Questo qui Questo di così Veloce 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 Sciallo Eh vabbè Oddio però Che è successo lì Raga Che sta succedendo Vabbè Vai strega Vai strega Vai strega Vai strega Brava Brava Stai la picchia Vabbè Il drago però fa il suo sporco dovere Ok Guarda l'uomo va Guarda l'uomo va Ok Qui tiriamo un bel missile Un bel razzo Così almeno muoviamo tutti lì Guardiamo un po' Pum E la faccia di chiede E sto gazz Eccolo lì Ti pareva stanno Che arrivassi qua Sta fester Buttiamo il gigante Scheletroso qua Che lui dicevo A diritto E me ne sbatto il cazzo Qui tiriamo già le frecce Lui ti dice Io ti direi Io sciamerò Io sciamerò Laiola Noi tiriamo Il colo sole Guarda come va Boom Boom Versi basso Versi basso Boom Boom Questo gigante è una bestia E in talte due corone Intanto si portano a casa Baule magico Così L'ho trovato i tre In un anno di gioco Un anno manco per il cazzo È giocato da tre mesi No il cazzo è giocato da gennaio Quasi da febbraio Cinque mesi Un baule Due baule magici Ora Puff Un baule magico Così Ultima ma non per importanza Di partita Con l'ultimo Ma non per importanza O forse si Di mazzo Vediamo un poco Vediamo un poco Ovviamente questi sono i primi tre mazzi Ho trovato Poi dovete consigliare Varie cose Se mi riporterò questo gioco Sul canale Quindi ancora non lo so Ok Per ora siamo Molto tranquilli Bene Tiriamo questa lì Giustamente Ok Vediamo un po' cosa succede Farà un po' di danno Un po' di danno lo farà Calmo Cavallo Ok però adesso vedete Ho l'astata aperta Perché ho il mago Molto vicino Che shotta quelle cose lì Boom Ok Shotta quella merda No Non l'ha shotta quella merda Vabbè Dettagli Questi cosini qui schifezzini qui Muoiono Ah che top Spaccare la torre Spaccare la torre Faccio un po' di danno Spaccare un po' di danno Vabbè Buono 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 Barbarie oltre di stare Fanno anche un danno boia Tiriamo anche un principe così Un po' della serie Mo carico E non vi perdono più Ha speso Ha speso un sacco di mana No 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 Che palle Mo Mo si va a destra Mo si va a destra Ok tu ti rivela Io tiro questa Qua così Non saprei cosa fare Però a questo punto Direi di fare una cosa del genere Mago qua così Questo si sapeva E vedi vedi Lo sapevo Lo sapevo E E E E Altra torre del bombarolo così Così almeno muoiano tutti E tiriamo questa qua dietro Intanto nel frattempo Più lento Dai vai Vai più lento Uh Uh Del danno Del danno 150 Ok Ok Loro Uno si deve girare Uno No No Che vuol dire Che vuol dire questo Che strategie Cosa su Due secondi Mancavano Non me l'aspettavo Cioè L'ho giocato con sette carte Nel masso Tutta la partita Guarda Spendo una gemma Guarda Per aprirvelo subito Almeno dopo avete qualcosa Da guardare E meno male E meno male Siccome questo era un video Per capire se il gioco Non ce l'ho Allora Il gioco fondamentalmente L'ho trovato uguale Perché ho giocato esattamente Le stesse carte Con le stesse modalità di gioco Ora io mi scimetterò A giocare un po' al telefono In questi giorni Visto che comunque Qualcosina è cambiato Sperando di trovare magari Qualche mazzo carino Che non ho mai giocato Trovando qualche carta Che non ho Che potrò giocare Giocherò un pochino Voi nei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questi cambiamenti Cosa ne pensate Del gioco Cosa ne pensate Del possibile Ritorno sul canale E soprattutto Fatemi sapere Se effettivamente Quando è cambiato qualcosa Se si giocano sempre Le stesse 20 carte Come ho fatto adesso Like, commento, condivisione Iscrivetevi al canale Passate anche Le mie social Che sono qua sotto In descrizione Sia chiaro Non ho detto che Clash Royale È un bel gioco Mio dio È cambiato tutto La porta sul canale Sugoi Kawaii No Mi ho detto questo Mi ho detto che Lo devo rivalutare Però Mi ha dato la possibilità Di poter dire Forse lo posso rivalutare Ma ancora non è detto Quindi Ci vediamo al prossimo video Per questo video è tutto Ciao Lini Ciao Lini Ciao Lini Ciao Lini Grazie a tutti.